Valerio Merola e Giulia Provedì insieme? Ecco cos'hanno combinato in macchina insieme i due ex geffini È passata poco meno di una settimana dalla proclamazione del vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip, ma i concorrenti della casa più spiata di Italia continuano a far parlare di loro Questa volta Giulia Provedì del duo delle Donatella ha concesso a Valerio Merola di baciare la sua scarpa. Il tutto è stato ripreso con il cellulare di Elia Fongaro e pubblicato su Instagram Il video pubblicato su Instagram da Elia Fongaro.il conduttore televisivo ha dato spettacolo in macchina con la sorella gemella di Silvia Provedì I due si trovavano in macchina insieme ad altri concorrenti del Grande Fratello Vip ovvero Andrea Mainardi, Benedetta Mazza, Stefano Sala ed Elia Fongaro Il fidanzatino di Gian e Alexander ha ripreso con il suo smartphone, quanto stava accadendo in macchina, e ha deciso di divulgare il video mediante una storia su Instagram La storia mostra Valerio Merola mentre prende il piede di Giulia Provedì e bacia la sua scarpa Stefano Sala ha poi urlato due punti.il Valerione ha tirato il leccatonee.esclamativo.il gesto improvviso di Valerio Merola ha scatenato la risata degli ex concorrenti presenti in macchina Evento benefico a Milano Marittima.Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip erano pronti per andare a Milano Marittima per un evento benefico. Il gala dinner organizzato dalla Fabbrica del Sorriso L'albero di Natale della casa più spiata di Italia, è stata messo all'asta insieme alle palline personalizzate dai concorrenti del GF Vip Insomma, il Grande Fratello Vip ha generato anche tutto questo. Dovremmo essere abituati a questi exploit Ecco il video pubblicato dal sito Bitkfi .